Pensate come scritture per una serie di conferenze da tenere ad Harvard, queste lezioni rappresentano l'ultimo insegnamento di un grande e immenso maestro, un metodo geometrico per la mente limato dall'ironia e dalla consapevolezza di non poter progredire verso una conoscenza assoluta, un lavoro da leggere senza sé e senza mai in cui Calvino perimetra le linee guida per un nuovo modo di pensare la letteratura di qualità, sottolineando valori etici fondamentali per il tempo a venire.